Non è lo straccio, è il bagno. Non è per cattivare ragazzi, perché io il bagno non riesco a pulire. O faccio il letto, l'apro i piatti, però io non sono tanto da faccende domestiche. Lo specchio come si funisce con l'alpha normale? Questo cos'è? No, è per la cute questo. Ragazze, cosa devo mettere qua dentro, tra l'alpha? Come la? Mi sono andato nei piedi? Scusate. A 19 minuti per lavare un premezzo, è grave, io lo troppo veramente grave, perché abbiamo qua nella vita. Ho portato sul secchio la scopa, quello l'ho portato su io, ho spazzato il cortile, Adesso per le piedi che non ti ho fatto niente, non mi sta bene, e ne vado. Ecco, si muciama. E' facile così, ecco. Ieri siamo strassi di sopra, ti divertiamo bene per terra, capisci il bagno? E' perfetto. Vero, che è perfetto. C'è passata un'attività, se le vedi così. Ho fatto il secchio delle camere, tutto a posto, è tutto pulito. Ha reaggiato. Allora, noi! Allora! 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 Ragazzi! Allora, magari questa è una pari fullata che state esercitando, sapendo che dovevo arrivare io. No! Allora, mettetevi un pochettino di là, così facciamo due chiacchiere. Per me è fondamentale di trattare questa casa con rispetto. Non è soltanto di fare delle belle foto, non è soltanto di fare le prove ricompense, perché se mi incasso, non lo facciamo. Ok? Perché decido io se facciamo le prove ricompense o no. Allora, adesso vorrei chiedere, Ilaria e Alice devi venire con me? Vi seguo? Sì, grazie. A me la cazzo sempre è notte, neanche Ilaria. Dipende da Michael. Ma cosa avete usato per pulire per terra? Cattigina! C'è anche da scaricare lì. La polvere. Questo sorriso, non mi piace questo sorriso, non è un sorriso accogliente, è un sorriso malizioso che avete fatto qualcosa. Allora ragazzi, adesso mi sono fatto un'idea. Ok? Andiamo giù, parliamo con tutti insieme. Allora ragazzi, ho fatto un piccolo ispezione della casa. E ho deciso che... Dai, la casa non è uno spettacolo, però va bene. L'avete superato l'ispezione. Ok? Allora, si fa la prove ricompense oggi, però non voglio farlo da solo. Ho bisogno di un tocco femminile, un tocco elegante, un tocco spettacolare. Antonia! Ciao, benvenuti, ciao a tutti, ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buonanotte. Che bella casa. Oh, sole mio sta in fronte a te. Antonia, secondo me, è fuori di testa, è fantastica, adoro quando entra. È spumeggiante, è molto di classe. Ciao, benvenuti, ciao a tutti.